a sherman shake 17 dicembre ragazzi che vi devo dire che c'ho giù la voce perché ho fatto una nottata in discoteca pesante pesante e niente quasi stradio come vedete il fregnodromo cioè il fregnodromo e che vi devo dire venite a sherman shake 27 gradi si stradio adesso ci facciamo una camminata qua sulla spiaggia come vedete la gente fa quella al bagno la bene l'acqua è caldissima si sta bene ragazzi 27 gradi non è un caldo esagerato però direi che si sta da lì oma super charme shake vi aspetto venite a farvi una vacanza devasto venite a sherman shake avete vita notturna vita diurna vita non avete vita in parole poveri dovete morire no scherzo scusate ma oggi sono abbastanza distrutto e un cazzo vedete tutto bello la gente che prende il sole e adesso mi vado pure io a prendere il sole ok vedete pa 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 carrellata omar super da sherman shake 17 dicembre questo è tutto un bacio all'italia un bacio a quelli che stanno col giubbotto e piumino qui come vedete non abbiamo né giubbotto né piumino fa il culo oggi sono abbastanza rincoglionito non ho dormito si vede un bacio ragazzi omar super charme shake vi aspetto ciao 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 vedete il mare è più caldissimo è più calda adesso che ad agosto bene un saluto ciao ragazzi bacio omar super è più caldissimo 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 è più caldissimo